Vi è mai capitato che quando uscite c'è qualcuno che vi osserva? Qualcuno che non conosci, che mentre tu stai facendo le tue cose vedi che ti continua a fissare in senso una ragione apparente, ma ti continua a guardare, così. Magari tu stai semplicemente passeggiando con i tuoi cani, ma continuano a fissarti e a volte può capitare che magari c'è qualcuno un pochettino più timido o un pochettino più riservato, che può sentirsi anche un po' disagio, no? Perché sta lì e dice, ma perché mi fissa? Cosa ho fatto di sbagliato? Niente, ne hai fatto niente. La tua unica colpa è semplicemente esserti trovato nel posto sbagliato, al momento sbagliato, quando c'era questa persona che continua a scrutarti, continua a fissare te e i tuoi cani, ma non per un motivo. Non c'è un cazzo da faaare! A volte ti rimangono così tanto tempo a guardare che tu ti preoccupi, e allora li guardi a sua volta e gli dici, sì, dica. E loro ti rispondono come se stanno dentro al negozio della Media World. No, no, stavo solo guardando. Cioè, stavi solo guardando chi? Che cosa? La mia vita? Vuoi vedere i miei cani? Me lo chiedi, ti avvicini e ti guardi i miei cani. Tu non mi stai solo guardando, tu ti stai facendo i cazzi miei. Ed è diverso!